Sentiamo quella nave! È un pezzo di ferraglia! La ferraglia va bene! La postazione di tiro è laggiù! Tu l'hai mai pilotata? No! Questa nave non vola più da anni! Fantastico! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Ce la posso fare! No! Ehi! È mia! Dai, sta bassa! Sta bassa! Cosa? Sta bassa! Gli confondi gli strumenti! Bibiatto, ora reggiti! Mi abbasso di quota! Che stai facendo lì dietro? Rispondi al fuoco che aspetti! Ci sto provando! Hai alzato gli scudi? Non è facile senza un copilota! Perché qui è facile, invece! Troviamo riparo! Presto! Tranquillo, ci siamo! Speriamo! Non è facile, non è facile! Andiamo, andiamo! Bel colpo! Sto divertendo per così! The daddy is there! Il cannone è bloccato in posizione frontale! Non si muove, devi seminarli! Preparati! Va bene! Per cosa? No! Lo stiamo facendo davvero! Oh no! 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 Oh no!